Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD esulta, la sinistra esulta, perché nella prima vera prova del campo largo, che non è nient'altro che un cartello elettorale tutti insieme per non far governare il centrodestra, hanno superato il 50% in tutte e due le regioni al voto Umbria ed Emilia Romagna, in Emilia Romagna 57% e in Umbria 50,3%. La festa del PD dopo i mugugni in Liguria. E così Ellis Line dice, confermiato siamo noi il perno dell'opposizione, doppietta alle regionali. Certifichiamo il ruolo centrale del PD che ha preso più del 40% in Umilia Romagna e più del 30% in Umbria, ma anche il suo. Tra idem, dopo la Liguria, si facevano sentire i primi mugugni. Ora è tutto un coro di applauso all'ottimo lavoro fatto per queste elezioni, dice la Schlein. Conte non ha ancora capito, dice, che più lui si ostina ad andare addosso al PD, dice un dirigente, a differenziarsi, più noi prendiamo voti e lui li perde. La formula del testardamento unitaria di Ellie invece funziona, perché l'elettorato del centro-sinistra è stufo delle divisioni. E poi dice, se siamo uniti fino all'ultimo voto, se il PD è coeso, siamo in grado di battere la destra. E ricordano che alle elezioni del 2022, se ci fosse stato questo cartello elettorale, questo campo largo, che Enrico Letta non volle, avrebbero vinto le elezioni, perché avrebbero superato il 50%, ma Letta non volle e andarono divisi e persero le elezioni. La Schlein, che era a Bologna con De Pascale, prima sono arrivati poi Bonelli fratto i anni, che dicono che bisogna lavorare, ha un'alleanza solida. Invece Conte non si è presentato, non si è fatto vedere. Lui si distingue. Perché si distingue? Evidentemente lui sta cercando di arrivare alla data delle elezioni del 2027 da solo, con un suo partito, con un suo simbolo, con le sue regole, con il suo nome diverso. Lui vuole vedere quanti elettori tira su da qua al 2027. Quindi Conte non si è presentato alla festa del campo largo. Anche Matteo Renzi tiene le distanze, però lancia una frecciatina al leader 5 stelle Renzi. Dice il centrosinistra unito vince, il centrosinistra diviso perde. Lo dice la matematica da sempre, lo conferma la politica. Ecco, un riferimento alla sconfitta ligure dove se probabilmente Renzi fosse stato incluso avrebbero vinto. Ma lui non accetta questo schema perché, come vi dicevo, vuole arrivare con le mani libere al 2027. Se da oggi fa il gregario della Schlein, il numero 2, lui non va da nessuna parte. Invece lui vuole andare a Palazzo Chigi, non vuole fare il numero 2 del PD. Quindi Conte resta nella capitale e dice è stata una vittoria strepitosa, purtroppo non riesco a raggiungervi perché la Costituente mi blocca Roma. Come vi dicevo poi Renzi aggiunge tenuto conto che ogni territorio, ogni elezione sono un discorso a parte, in questo caso abbiamo dimostrato che nonostante l'appoggio del governo e nonostante la posizione di vantaggio da cui partivano, il centrodestra si può battere con un progetto credibile e concreto. Ma più che un progetto credibile e concreto è un cartello elettorale, tutti insieme alla viva al parroco. Ma va bene anche questo, funziona anche questo. È così, questa è la realtà. E così esorta Schlein all'unità, alla credibilità del progetto che poi questo progetto in realtà non c'è, non c'è un programma di governo. Ci sono delle paroline, difendiamo il lavoro, difendiamo la Costituzione, che non vogliono dire niente perché non c'è da difendere da nessuno. E secondo la Schlein dire difendiamo la sanità, il lavoro e la Costituzione è un programma di governo. Vagliela a spiegare. Però la voglia di tirar giù questo governo è tanta che quelli di sinistra vanno a votare. E così, dice la segretaria, la strada da fare è ancora molta, non mi siedo sui risultati, ora si tratta di andare avanti perché c'è un'altra tornata di elezioni regionali all'orizzonte che sono le marche, perché poi ci saranno le politiche, la nostra occasione di mandare a casa questa destra. Perché loro puntano nel 2027 a presentarsi tutti insieme con un cartello elettorale e riuscire a prendere oltre il 50%. Vedremo se ci riusciranno o no, perché da qui al 2027 ci sono ancora tre anni. Il governo ha compiuto due anni da poco, mancano ancora tre anni. Diciamo che questo esecutivo non è neanche alla metà del percorso. Di solito chi governa perde voti, chi all'opposizione li guadagna. Vediamo che comunque il centrodestra mantiene, anzi aumenta i suoi voti al 47, 48, 49% come area politica, quando nel 2022 aveva il 44%. Quindi il centrodestra ha aumentato i suoi elettori e il centrosinistra non ne ha guadagnati chissà che. Anzi, diciamo che a differenza del 2022 adesso hanno fatto la prova a mettersi veramente tutti insieme e il cartello elettorale ha funzionato perché hanno superato il 50% del consenso nonostante il centrodestra abbia raggiunto il notevole traguardo del 47, 48 e 49% in queste elezioni regionali. Se siamo uniti fino all'ultimo voto, se il PD è coesi, siamo in grado di battere la destra, dice Ellie Schlein. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai-da-te. Poi ricordatevi sempre che questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono caricati sulla pagina di Facebook che si chiama Luca Vincitore dove lì, se vi sono interessati, li potete condividere con chi volete. Grazie nuovamente a tutti e arrivederci. A presto. Grazie.